Descrivere questa serie non è semplicissimo. Dopotutto è raro che ci si ritrovi dinanzi ad uno spin-off del tutto differente dalla serie madre. Se infatti Riverdale non è nulla di più di un'intrattenente serie teen coloritura anni 70, Sabrina sin dal suo primo fotogramma risulta originale e stranamente interessante. La sua atmosfera candy horror, passatemi il termine, la sua fotografia così calda, l'unicità della regia, le espressioni tipicamente dedicate al radiocristiano, qui utilizzate per rivolgersi al demonio, la coesistenza delle streghe e degli umani in una piccola cittadina e la compresenza di due specie nella persona di Sabrina, stupiscono lo spettatore facendolo piombare in un universo originale e dall'indubbia bellezza. La trama è lineare, rilassante, intrattenente, mancano colpi di scena di una certa potenza e generalmente parlando la vicenda non subisce mai impennate reali rimanendo per lo più piatta e prevedibile, così finendo per non divertire o stupire mai lo spettatore. Sarebbe forse stato meglio rischiare di più per ottenere un risultato memorabile sebbene non si possa dire che quello raggiunto non sia soddisfacente. Come infatti comprensibile da quanto suddetto, il fascino dello show proviene dal presupposto narrativo e dell'atmosfera che permea ogni singola scena. La linearità suscitata, tuttavia, viene meno nella fase finale in cui confluisce un numero troppo elevato di sottotrame, molte delle quali insignificanti e tremendamente riempitive. Certo, i personaggi sono tanti ed ognuno di loro merita il proprio spazio, ma sarebbe forse stato meglio evitare di creare tanta confusione senza che potesse poi portare realmente ad alcun risultato. Gli adulti del cast sono tutti particolarmente bravi, mentre i ragazzi si dividono tra piccoli talenti, mediocri interpreti emergenti e pessimi attori tra cui spicca Ross Lynch che mai avrei pensato potesse raggiungere tali picchi di bassezza. L'opera sembra poter essere letta soltanto su un piano narrativo. Non vi è nulla di allegorico, l'opera vive senza riuscire a comunicare alcun messaggio. Questo però, almeno dal mio punto di vista, non è affatto un difetto, ma un enorme pregio. Piuttosto che fare moralismo, tentare di porsi come show educativo per il pubblico giovanile, Sabrina si presenta come una serie non pretenziosa, come una serie che non deve raggiungere alcun obiettivo se non quello di far evadere dalla realtà quotidiana. Sabrina non commuove, non sbalordisce, non fa riflettere, ma permette di staccare la spina e di immergersi in un nuovo mondo. Cercavo da tempo un prodotto che potesse farmi questo effetto che, dimenticando la struttura attuale e seriale, si distinguesse da tutto il resto. Vista la difficoltà citata all'inizio della recensione, non credo di riuscire ad aggiungere altro, ma suggerisco a chiunque di visionare il prodotto aspettandosi non qualcosa di significativo e profondo, ma qualcosa di estremamente originale. Voto 7 e mezzo.